Altri 23 furbetti del CAS stanati dalla Guardia di Finanza di Ascoli Piceno e denunciate alla Corte dei Conti. Per la precisione i controlli si sono focalizzati sui contributi erogati da un paio di comuni del cratare sismico Piceno e hanno accertato la responsabilità per danni erariali di oltre 286 mila euro in relazione a presunte irregolarità riguardanti l'indebita percezione dei contributi di autonoma sistemazione. In particolare il nucleo di polizia economico-finanziaria su delega della Corte dei Conti ha approfondito l'erogazione del CAS a 23 persone sgomberate dalle abitazioni a causa del sisma dell'agosto e dell'ottobre 2016. Il dubbio sorto fin da subito ai militari era se quelle persone fossero effettivamente residenti nelle case lesionate dal terremoto. Erano emerse infatti anomali importanti soprattutto guardando ai consumi di energia elettrica degli immobili sgomberati relativi all'anno 2015 pari praticamente ai soli costi di mantenimento dell'utenza. La finanza parla di precise violazioni amministrativo contabili proprio in ragione della mancanza stabile e continuativa della residenza sul territorio comunale nel periodo precedente agli eventi sismici del 2016. Uno stop allo sperpero di denaro pubblico che andava avanti da oltre cinque anni. Non va dimenticato infatti che il corretto impiego dei fondi pubblici aiuta la crescita produttiva e occupazionale e contribuisce nell'attuale congiuntura ad arginare l'impatto negativo della crisi economica e sociale conseguente all'emergenza pandemica.